Cerniere a scodellino da sempre sono le mie preferite per quello che riguarda la movimentazione ad esempio di ante armadi eccetera perché per tre motivi perché sono velocissime da installare sono regolabili e soprattutto una volta montate sono invisibili quindi davvero davvero ottime. Per montarle basta una fresa Fossner ti lascio qui sopra il link a un video in cui spiego cosa sono e quante ne esistono e poi una Dima che sia autocostruita o pronta all'uso come queste due. Questa gialla ve l'ho fatta vedere ormai tanti anni fa ho visto che tantissimi la utilizzano e l'ho utilizzata anch'io ma oggi voglio provare anche questa e metterla a confronto. Bene allora cominciamo da quella gialla supponiamo di dover montare una cerniera a scodellino nella nostra anta ci servono due misure e cioè la distanza dal sormonto dell'anta e la distanza dal bordo. Questa Dima ci dà entrambe perché vedete questi fori servono proprio per andare a inserire questo perno che vi viene dato in dotazione su due misure standard in questo caso se non sbaglio sono 4 pollici e 3 pollici vedete che andiamo a delimitare la distanza della nostra cerniera dal bordo in questo modo. L'altra misura ci viene data da questi cursori hanno diverse posizioni tutte indicate da un numero 3 4 5 6 cosa sono? Sono millimetri e cioè qui sotto abbiamo un distanziatore che ci dà la distanza appunto dal bordo dell'anta quindi in questo caso è settato 4 mm. In via generale vi dico che solitamente tutte le cerniere vengono montate a 4 mm dal bordo a questo punto però dobbiamo bloccarlo quindi abbiamo la necessità di andare a fermarlo con un paio di strettoi. Prima di andare a fare i fori dobbiamo settare la profondità di foratura come si fa si fa con lo stop e soprattutto si fa a Dima montata tanti prendono lo spessore come se questo fosse il limite ma è un errore perché avete lo spessore anche della Dima. Quindi prima di andarla a bloccare togliamola ancora un attimo da qui andiamo a inserire il nostro jig e da qui con la nostra Dima scodellino possiamo prendere la profondità in via diretta come andiamo a posizionare la scodellino esattamente sulla Dima e andiamo a farla combaciare con il tagliente piatto della nostra Fossner. Una volta presa questa misura consiglio mio dategli ancora un millimetro di profondità e andate a bloccare con lo stop di profondità. Se le cerniere che montate sono sempre le stesse questa è una misura che prenderete sostanzialmente una volta sola e poi avrete questa parte del jig sempre pronto. Andiamo ad inserirlo nel nostro avvitatore questa volta posizioniamo il jig nella Dima in via definitiva e andiamo a forare. Possiamo a questo punto togliere tutto, prendere la punta che vi danno in dotazione e scegliere uno dei fori corrispondente ai fori delle viti per fermare la cerniera a scodellino. Sono quelli centrali più comunemente usati. Andiamo a fare i nostri due fori. A questo punto possiamo rimuovere la nostra Dima e controllare che effettivamente sia tutto ok. Il foro della Dima è perfetto e anche i fori per le viti corrispondono. Allora la Dima dell'Enjoywood è una Dima completamente in metallo quindi diversa da tutta la plastica che abbiamo visto prima ma la funzione è la stessa. Vediamo che ci sono diverse misure e diversi fori in cui vanno avvitati questi stop. A cosa servono? Servono alcuni come per l'altra a dare una distanza dal bordo dell'anta. Quindi in questo caso ci viene indicato 68 mm. Possiamo andare a inserire questo stop e possiamo andare a posizionare la nostra Dima a bordo anta. Come vedete poi qua ci sono altri fori che servono a dare la distanza del foro dal bordo della nostra anta. In questo caso come nel caso precedente sono stati inseriti a 4 mm dal bordo. A differenza di prima però non abbiamo bisogno di altri morsetti perché qui sotto c'è un morsetto a ginocchio regolabile con questi due bulloncini per ogni spessore su cui noi vogliamo andare a lavorare. Quindi una volta posizionata la Dima non faremo altro che andare a fissarla e noi saremo pronti. Anche qui abbiamo un nostro jig da inserire nell'avvitatore in cui c'è la Fossner e anche qui lo spessore vi consiglio di andarlo a prendere una volta inserito nella Dima. Esattamente come abbiamo fatto prima. La diversità è che anche lui è in metallo. Si va ad incastrare perfettamente nella sua Dima e possiamo forare. Una volta finito andiamo anche qui a togliere il nostro jig. Questo foro che vedete qua sotto è perché dall'altra parte c'è un test che avevo fatto e c'è un altro foro di una Fossner. Tornando a noi adesso dobbiamo andare a fare i fori per le viti di fissaggio. Vi danno un altro pezzo in metallo come una Dima sopra in cui ci sono diversi forellini. In questi forellini vanno inserite delle guide in metallo come queste. E quelle che corrispondono alla vostra cerniera a scodellino saranno le guide per fare i fori. In questo caso le ho inserite in quelle da 48 mm. E andiamo a forare. Andiamo a rimuovere la nostra Dima e a inserire la nostra cerniera a scodellino in cui corrispondono sia i fori delle viti che ovviamente il foro per la cerniera stessa. Ovviamente per ambe due c'è la possibilità di andare a lavorare su distanze non predefinite. Quindi se ad esempio dobbiamo mettere una cerniera a scodellino al centro di un'anta possiamo disegnare una riga di riferimento e andare a posizionarsi esattamente su quella riga. Nella new c'è questa piccola righetta stessa cosa dall'altra parte che ci fa da riferimento e anche per l'enjoywood c'è un piccolo riferimento sia da una parte che dall'altra che ci fa centrare esattamente la cerniera dove desideriamo noi. Passiamo quindi al confronto dei due prodotti quindi caratteristiche, costruzione, velocità d'esecuzione eccetera perché il risultato come avete visto con entrambi è esattamente identico e cioè il lavoro si porta a casa. Partiamo dal prezzo. Normalmente questa si trova intorno alla ventina di euro mentre invece questa normalmente sta intorno alla cinquantina di euro. Ce ne sono diverse versioni, questa costa più o meno così. In verità costa molto meno nel momento in cui utilizzate ad esempio uno dei miei coupon che trovate qui sotto e lo trovate anche nel mio sito e su Telegram. Lì io riesco ad avere dei coupon da tutte queste case che mi mandano dei prodotti da testare e ovviamente ve li posto qui. Quindi se poi alla fine deciderete che quello è il prodotto che fa per voi pagatelo meno. Il discorso è sempre quello. Parliamo invece di materiali. Questa gialla è completamente in plastica. Voi la vedete qui marcata new ma ce ne sono di mille versioni praticamente tutte identiche. Vi danno questa parte qui che è il corpo della Dima e poi oltre a questo pezzo anche una Faustner. Faustner di qualità media, medio-bassa. Insomma non parliamo di cose altamente performanti ma che fanno il loro. Certo se dovete montare 500 scodelline al giorno non è questa la Faustner che vi consiglio. Ma di questo ne parliamo dopo. Questa dell'Enjoy Wood invece è un prodotto che strizza l'occhio sia al design che ai materiali perché comunque è completamente in metallo. Teoricamente potrebbe avere una durata maggiore anche nel tempo. Sicuramente è fatta molto ma molto bene. Vi dico la verità. Ad esempio adesso mentre vi parlavo stavo cercando di inserire questo ma se non lo inserisci perfettamente lui non va all'interno. Se voi lo inserite storto potete spingere finché volete ma i giochi fra tutte le parti di metallo sono talmente perfetti che ragazzi veramente è un prodotto di altissima fascia secondo me veramente di alta fascia. Anche qui vi viene data in dotazione una Faustner e anche questa è dello stesso livello dell'altra. Cercate di capire che una Faustner come si deve è veramente valida, professionale e performante costa probabilmente tanto come il jig dell'Enjoy Wood. Qui ne ho una da farvi vedere. Questa è una Faustner a lama di coltello della Famag e costa effettivamente mi sembra sulla quarantina di euro. Ancora sul discorso costruttivo come vi ho detto qui è tutta plastica tranne lo stop che va sulla Faustner mentre da questa parte essendo tutto metallo hanno avuto degli accorgimenti secondo me molto validi. Infatti qui c'è una piccola rondella in ottone e l'ottone correggetemi se sbaglio ma è autolubrificante quindi nel momento in cui la Faustner va a picchiare in fondo non rovina né la Faustner né il jig in sé e soprattutto all'interno del jig dove gira la Faustner c'è un cuscinetto quindi non è metallo su metallo ma c'è un cuscinetto che aiuta la lavorazione e preserva il prodotto. Quindi io non lo sapevo, l'ho visto mentre la montavo ed è davvero davvero un plus cioè è una cura nei dettagli veramente alta. E infatti questo mi fa andare al prossimo punto cura dei dettagli che però viene a mio avviso un po' lasciata da parte nel momento in cui si ragiona sul fermo a ginocchio perché indubbiamente non avere bisogno di strettoi aggiuntivi mentre si ferma la dima è un valore in più perché è meno ingombrante e come vi dicevo appunto non avete bisogno di altro però però visto che avete fatto 30 fate 31 e trovate il modo di creare uno stop un po' più rapido che non siano i due dadini perché andare a fermare questa parte e regolarla è veramente noioso. Se infatti è vero che le cerniere a scodellino più o meno sono sempre le stesse perché di solito se ne comprano tante poi si usano quelle e quindi si setta ad esempio la profondità e la larghezza dei fori una volta sola è anche vero che le ante su cui si va a lavorare sono sempre di spessori diverse e questo ovviamente non è autoregolante. Per essere ancora più chiari questo è un morsetto a ginocchio della Bessay come vedete qui c'è comunque una vite per andare a bloccare lo stop ma qui c'è un meccanismo autoregolante per cui in base alla pressione che si va a fare lui si autoregola e va a bloccare comunque il pezzo sia che sia un po' più alto o un po' più basso. Ora parliamoci chiaro questo è un morsetto che costa un occhio della testa e tutto questo sistema Bessay è veramente pregevole credo che sia anche l'unico ad averlo vi dico la verità però sono convinto che qualcosa si possa fare ovviamente farlo vorrebbe dire probabilmente alzare il prezzo del jig che è comunque già alto quindi teniamoci questa cosa ma se devo trovare un difetto è effettivamente quello la regolazione è abbastanza noiosa. In conclusione quello che vi consiglio è questo allora partite come sempre con l'autocostruzione se dovete mettere due cerniere a scodellino e il vostro hobby principale non è la falegnameria fatevi una dima, prendetevi due misure e avete risolto. Se non avete necessità di portarvi a casa un oggetto come questo che effettivamente è molto performante, molto ben fatto sinceramente questo funziona benissimo certo è un po' più ingombrante avrete bisogno di andare ad utilizzare degli stretto in più se lavorate su ante o mobili già montati magari effettivamente l'essere così grande potrebbe creare dei problemi ma vi dico la verità questo mi ha accompagnato due anni e non vedo perché io non debba consigliarlo il suo lavoro lo fa molto bene. Se volete il top di gamma secondo me al momento è lui è veramente pregevole, veramente fatto bene sono stupito e vi dico la verità la comodità anche che sia così compatto soprattutto nel momento in cui doveste andare a lavorare su ante già montate o magari in condizioni complicate e portarvi solo lui e l'avvitatore non è affatto una cattiva scelta. Quindi questa è la mia valutazione finale io vi invito ad andare a leggere anche i commenti che ci saranno qui sotto perché indubbiamente alcuni di voi ci racconteranno la loro esperienza noi ci vediamo alla prossima ciao a tutti ciao a tutti